mister butto peccato perché rispetto alle ultime partite si è fatto forse più di un passo indietro risultato a parte non si è visto il finale delle ultime settimane miracoli non se ne fanno cioè nel senso quando tu hai tanti giocatori così fuori non è per piangere però poi parliamo l'evidenza nonostante tutto abbiamo avuto un approccio perché conto tre occasioni da rete di cui due nei primi proprio primissimi minuti una su un cross non so se l'ha tirata limolina ha preso l'incrocio l'altro gli ha fatto una mega parata da un passo e poi quando abbiamo preso gol ci siamo disuniti perché venire a mancare di tanti giocatori dall'inizio preso carlo porta che il giocatore più esperto e vittori che avevano infortuni quindi andava centellinati di benedetti ha avuto qualche problemino non abbiamo rischiato all'inizio il basso ha avuto la febbre negli ultimi due giorni quindi non è che ci siamo presentati però questo è un ora alla cairese perché sicuramente un'ottima squadra di un livello superiore del nostro c'è che ha visto i quattro cambi può vederli un po come una bocciatura però come hai detto c'è un po una condizione generale da da rincorrere quando si vedrà probabilmente il finale a pieno regime nei suoi nei suoi elementi nei suoi elementi quando recuperi tutti qua non è questione di bocciature cioè bisognerebbe qua che ci ha perso il sesto levante ci può perdere anche il finale il discorso è quello bisogna cercare di recuperare un po tutti però il nostro percorso è quello l'avamo attaccato bene poi con imperia e cairese si può perdere con imperia bene domenica oggi un po meno bene sotto il punto di vista del di quando abbiamo preso poi ricorda che ci siamo sfilacciati un po